il recital delle bambine era assolutamente meraviglioso hanno suonato racmani tutti erano felicissimi ovviamente tutti a parte me perché io non c'ero lo sai perché ti ho assunto io assumo sempre lo stesso tipo di ragazza alla moda magra ovviamente e che venera alla rivista ma capita poi spesso che si rivelino non lo so deludenti e stupide perciò con te con il tuo grande curriculum e col grande discorso sulla tua cosiddetta etica del lavoro ho creduto che tu potessi essere diversa mi sono detta provaci correre il rischio assumi la ragazza sveglia e grassa io vivo di speranze comunque alla fine mi è deluso più tu di tutte le altre ragazze gallina è tutto tutto